Carlotta ASMR Ciao a tutti Come state? Spero siete benvenuti in un nuovo video in cui ci sarà il gelatino e la mia voce molto lenta e sussurrata ovviamente Mettetevi comodi Adesso chiacchiereremo insieme e parleremo un po' di film e serie tv Nello specifico alternerò un film a una serie tv E vi mostrerò una maglietta pampling a tema durante la prima serie tv Durante la mia recensione della prima serie tv di cui vi parlerò Ovviamente fatemi sapere che ne pensate di queste serie Di questi film di cui vi parlerò Se li avete visti Insomma se non li avete visti Ditevi qualcosa Sono curiosa Dunque cominciamo con il primo film E poi una serie tv E poi una serie tv Il primo film di cui vi parlo È una produzione spagnola che si trova su Netflix E se non sbaglio è proprio un film Netflix Intitolato durante è la tormenta Il protagonista Non è in realtà proprio il protagonista Ma uno dei personaggi principali È Alvaro Morte Cioè il professore nella casa dei papi Non conosco i nomi degli altri attori E non è rilevante ai fini della mia recensione Questo film mi è piaciuto tantissimo È un bel nome pieno E di cosa parla in breve Durante la tormenta Perché? Perché durante una tempesta in realtà Nel 1989 Sono sbagliosi Accatti qualcosa Per cui Un bambino Cioè Non accade qualcosa Accade un delitto Al quale un bambino Ha assistito Purtroppo Uccendo Dalla casa Che era stato consumato Questo delitto Correndo È stato investito Da un'auto E non ce l'ha fatta Questo è successo Nell'89 E Ai giorni nostri Qualcuno ritrova Dei filmati Di questo bimbo Che registrava In casa Appunto La stessa casa In cui vivono i protagonisti Si tratta Dello stesso Identico luogo In cui Viveva Questo bimbo Bambino Che si chiamava Nico I nuovi proprietari Ritrovano questi filmati Li guardano E li guardano Attraverso Un vecchio televisore Quello di Nico E la sua Vecchia videocamera Guardano questi filmati E durante una tempesta Particolare Che ci fu Anche Nell'89 Una tempesta Elettromagnetica Se non sbaglio Si crea una connessione Fra La donna Protagonista Che si chiama Vera E questo Nico Che riescono a parlarsi Tramite La Cinepresa La tv E lei ovviamente Cerca di Bloccarlo Non faccio spoiler Questo si sa Lei cerca di Non farlo uscire di casa Capisce? Sa qual è la storia Di Nico E prova a non farlo uscire Di casa Per non essere investito Non vi dico altro Sappiate che Il futuro In qualche modo Cambierà E che vera Farà di tutto Per farlo tornare Come era prima Non vi dico altro A me Ha intrigato Moltissimo Il trailer Quindi Ho voluto Guardarlo Non me ne sono Per niente Pentita Bello Bello O gli do Un 10 Perché C'è una cosa Nel film Che non vi dirò Che è assolutamente Telefonata Nel senso Si capisce Chiaramente Un dettaglio Non poco Importante Importante Almeno Io E il mio Ragazzo L'abbiamo capito Immediatamente Ma questo Non toglie Molto presto Durante il film Si capisce Questo Non toglie Nulla Alla storia Che comunque È sorprendente Verso la fine Perché tutto Viene Decisamente Scomporto E il marito Di questa Vera È appunto Alvaro Morte Non mi ricordo Come si chiama Nel film Bello Guardatelo È un thriller Direi E tratta anche Di Non proprio Di viaggi Nel tempo Ma È comunque Un argomento Un po' Surreale Perché Si tratta Di cambi Del futuro Tramite Il passato Quindi Se vi piace Il genere Bellissimo Poi Passiamo Ecco Vi mostro Subito La mia Maglietta Pampling Stupenda Forse Ve l'ho già Mostrata All'inizio Non so Come monterò Il video Perché Vi sto Per parlare Di Panda VandaVision VandaVision Si trova Su Disney Plus Allora Lo so che è un bel poca uscita Ma Adesso sto facendo Questo video Sulle serie tv e film Quindi ve ne parlo adesso Ok Voto Dieci Senza dubbio Bellissima Per chi Non ama I film Marvel Non sa nemmeno Cosa sia la Marvel Direi che è poco Interessante Guardare questa serie tv VandaVision Io adoro Tutti I film Marvel Tutti Un po' meno Quelli di Thor Non so che È strano Ma È così È bello Mi piace tantissimo Il suo personaggio Mi piace tantissimo Come è evoluta La cosa Però Io vorrei tanto La seconda stagione Ovviamente Non vi sto a raccontare Di cosa si parla È una tizia Bellissima Tra l'altro Con i capelli rossi Che ha superpoteri E Si crea Questo Non si crea Vediamo Questa tizia Insieme a suo marito Robo O robot Che si chiama Visione Per questo VandaVision Cioè lei Visione Diciamo E Si creano Tutte Cioè Li vediamo Interpretare Diverse serie tv A partire dagli anni 50 Se non sbaglio Tipo Vivata strega Loro Loro Interpretano Questi Si ritrovano Sulla scena Di questi Di queste serie Di queste Di queste serie tv Però Interpretando Loro stessi Molto comica Come cosa E si capisce Che sotto C'è qualcosa Che non va Bisogna guardare La serie Poi per capire Di cosa io stia parlando Poi troppo Non posso dire di più E Bella Io non vedo l'ora Che esca Adesso Loki Tra l'altro Trebbe uscire Il giorno Prima del mio Compleanno L'11 giugno Che Io lo adoro Mi piace tantissimo L'attore Mi piace lui Mi piace il personaggio E voglio sapere Che fine ha fatto Assolutamente Poi Il Secondo film Di cui voglio parlarvi Si trova su Amazon Prime Video Che si trova Invece Su Amazon Prime Video A proposito Vi lascio Un link Affiliato Per iscrivervi Ad Amazon Prime Con tramite il mio link Appunto A voi Non Non cambia nulla Avrete Non so quanto tempo Gratuito Lo scrivo giù E fate una Mi sostenete Sostenete Il canale A voi appunto Non cambia niente Se non addirittura Avrete dei vantaggi Io lo pago Amazon Prime Si tratta Di cena Con delitto Ci sono Diversi Attoroni Famosi Di cui non ricordo Solutamente Il nome E restando In tema Marvel C'è anche Capitan America Che interpreta Un ruolo Decisamente Non Simile A quello Di Capitan America In pratica Ci si trova In questa Tenuta Proprietà Di un Signore Molto Benestante Molto Ricco Che ha una Grande famiglia Allargata Anche E una Ragazza Che è la sua Infermiera Questo Signore Muore A quanto pare Si è suicidato Perché Lo si ritrova Con la gola Tagliata Si è tagliato Da solo La gola Però Da subito Gli Ispettori Insomma Coloro Che indagano Soprattutto Un detective Che è stato Chiamato Da qualcuno Non si sa Che Intagano Come se fosse Un omicidio Non vi posso dire Di più Insomma È molto carino Molto Anche Poco Prevedibile La svolta Finale Non parlo Tanto Dei Della persona O le persone Responsabili Di questa Morte Quanto Proprio Della svolta Finale Capirete Solo Guardando Mi do Un bel set Pieno Un po' Lento L'ho trovato Un po' Lento Non ho trovato Molto interessanti Dialoghi Devo essere Sincera Non so Però la Location Stupenda Mi è piaciuta Tantissimo Proprio Tantissimo Bella Non mi ricordo Dove siamo Ma questa Casa Questa Tenuta Io la chiamo Tenuta Ma è una casa In cui si svolge Tutto Sì Praticamente Tutto È Spettacolare Bellissima Dal mio punto di vista Torniamo Poi A Disney Plus E torniamo Ancora Alla Marvel Perché ho visto Falcon And The Winter Soldier L'avrò pronunciato Bene Non lo so Comunque Falcon E il soldato D'inverno Pure qui Per chi non vede I film Marvel È inutile Che io ve lo stia Spiegare È completamente Inutile Molto carina Mi è piaciuta Molto Avrei dato Una svolta Diversa Alla fine Al soldato D'inverno Ma La svolta Di Falcon Ci sta Tutta E Suppongo Faranno Una seconda Stagione O allora Si vedrà Il seguito Dei prossimi Film Marvel Suppongo Molto carina Do un bel Quasi Un 8 Diciamo Che loro Non sono Assolutamente Fra i personaggi Preferiti Della Marvel E non perché Siano Diciamo Marginali Assolutamente No Soprattutto Sam Non mi ha mai Entusiasmato Molto il suo Personaggio Sarà perché L'attore Non mi trasmette Molto dal punto Di vista Espressivo Lo trovo Molto piatto Come recitazione Mentre lui Mi piace Tantissimo Bucky Lo trovo Molto Espressivo Simpatico E poi La storia Di Bucky Che è sicuramente Più interessante Di Sam Non sappiamo Praticamente Nulla Tranne Adesso Se guardiamo La serie Tornato ad un film Ho guardato Un film Molto vecchio Che non avevo Mai visto Prima E si tratta Di A Beautiful Mind A Beautiful Mind Con Russell Crowe E non solo Anche altri attori E Che è uno dei film Più belli Pare Ma è stato Fatto E la storia Di questo Di questo Omo Molto intelligente Non mi risulta Che sia un genio Molto intelligente Che però Anche Un grave Disturbo Mentale Non vi dico Altro Ma penso Lo conosciate In molti E' assolutamente Tratto Da una storia Vera Ma dopo Aver visto Il film Sono andata Ad informarmi Sul personaggio E i ragazzi Hanno inventato La metà Delle cose Cioè La metà Delle cose Sono state Inventate Io Non concepisco Questa cosa Sinceramente Capisco Che il film Deba Adattarsi No Però Cioè Inventare Di sana Pianta Dei personaggi O Delle Delle Turbe Che non sono Mai esistite Non capisco Quindi Diciamo Che La prima parte Del film Una noia Mortale Secondo me Ma proprio Noiosissimo Dal mio punto Di vista Da Un po' Meno Di metà Ho cominciato A Cioè Mi è cominciato A piacere Molto Nonostante Il film Sia molto Molto Bello Purtroppo Si distacca Troppo Dalla storia Originale Quindi Come film Darei un otto Però poi Sapendo La realtà Non c'entra Nulla Hanno lasciato Solo Il personaggio Il nome Tutto Il resto Quasi È completamente Inventato Quindi Vabbè Comunque È bello Molto bello Poi Per concludere Adesso sto iniziando Downton Happy Dietro consiglio Da un video Della mia amica Monica Arasolessi Sta cominciando A piacermi Sono al sesto Episodio Della prima Stagione Poi ho guardato Tutto in famiglia Su Disney Plus Una vecchia serie Che guardavo Un sacco di anni fa E Mi sono sorpresa A capire Quanto io sia cambiata Da quegli anni Perché ci sono È molto carina Leggera Non mi va di fare La persona Pesante Eppure Per una serie Leggera Però ci sono Delle cose Che adesso Non accetto Mentalmente E Dieci anni fa Non ci avrei Nemmeno Vedivamente Pensato Tipo Alle battute Stupidine Sulle persone Grasse Le trovo Proprio Fuori luogo Anche se Loro le fanno Veramente In modo Non cattivo Però Comunque Non è il caso Però Comunque Sono serie Di un'altra epoca Quindi Capisco Ma mi fa piacere Sapere Di essere Cambiata In meglio Questo è solo Un esempio Delle battute Che ci sono E Poi ho riguardato Tutto Desperate Housewives Io adoro Questa serie La adoro Mi piace Proprio Tanto Perché ci sono Intrighi E E Simpatica E anche Profonda A volte Bella Mi piace Proprio Troppo La mia Housewife Preferita È sicuramente Linette Linette E Tom Sono la mia famiglia Preferita Però Quella Che mi fa Ritere di più È Gabriella Cioè Eva Longoria Che io trovo Di una bellezza Incredibile Grazie al cavolo Penso anche voi No Però Io la trovo Pazzesca Bellissima E Diciamo Quella che mi piace Meno Di personaggi È sempre stata Susanna Nonostante sia Praticamente Diciamo La protagonista Niente Niente Ragazzi Spero Che questo video Vi abbia Rilassati Che vi abbia Fatto passare Anzi Non ragazzi Tutti voi Spero che questo video Vi abbia Fatto stare bene E Ho fatto Attormentare Perché no Direi che Ci rivediamo Prestissimo Vi mando Un grandissimo Un bacio A presto Fatemi sapere Ovviamente Se avete guardato Questi film O queste serie Di bu Se vi piacciono Eccetera Ciao 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 Grazie a tutti.